io sono eva tennina e mi occupo dell'area progettazione per l'associazione progetto diritti onlus che è stata fondata nel 1992 ed è poi diventata onlus nel 1998 e da allora si occupa di tutela dei diritti delle fasce più vulnerabili della società con attenzione particolare a quelle che sono le esigenze delle persone straniere presenti nel nostro paese ogni anno assistiamo centinaia e centinaia di persone che si rivolgono a noi per dei problemi amministrativi legati alla giustizia sia a livello civile che penale e li sosteniamo per quanto riguarda il permesso di soggiorno la cittadinanza o qualsiasi altro problema che possa essere come lo sfruttamento lavorativo o le condizioni di difficoltà di accesso ai servizi con il termine alternative alla detenzione noi pensiamo a un'alternativa non coercitiva che quindi si distingue dalle classiche alternative in uso nei paesi dell'unione europea come anche in italia che può essere il trattenimento del passaporto l'obbligo di firma in questo caso noi intendiamo come alternative qualcosa che non preveda la restrizione della persona a nessun livello e quindi queste persone sono libere nella comunità ospitante e hanno così la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale e interagire con il resto della cittadinanza riuscendo così a relazionarsi umanamente anche nel percorso prima di arrivare alla conquista del titolo di soggiorno il case management è una metodologia trasversale nella vita delle persone che mette il l'individuo al centro permette quindi di avere un approccio multilivello di intervenire coinvolgendo la persona in un percorso di emancipazione ed empowerment che permetta di affrontare in prima persona il proprio percorso migratorio quindi si tenta proprio di ribaltare la situazione che prevede l'attuale sistema in cui vengono calate dall'alto le regole e le possibilità e il l'obiettivo è quello di emancipare le persone dare loro gli strumenti e le informazioni corrette e accompagnarli in un percorso che vada nella direzione di esplorare le possibili opzioni riguardo alle fasi del case management sono principalmente alcuni passaggi standard si comincia con una fase di screening in in cui si selezionano le persone che possono essere inserite nel nel percorso di progettazione condivisa c'è un momento comune di assessment cosiddetto in cui si analizza la storia migratoria della persona e in modo tale da evidenziare quali sono i tratti caratteristici l'esperienza e quali sono le eventuali vulnerabilità su cui si può lavorare nella direzione della regolarizzazione in seguito il case manager che la figura di riferimento che accompagnerà durante tutto questo percorso il beneficiario insieme al beneficiario programma un piano di azione mettendo quindi su per iscritto quali sono i principali obiettivi che si vogliono andare a raggiungere insieme che possono essere per fare degli esempi pratici anche l'ottenimento di una tessera sanitaria piuttosto che l'iscrizione anagrafica quindi qualcosa che permetta di migliorare la situazione di vita della persona coinvolta in modo tale da permetterle di avere una maggiore partecipazione attiva nella comunità ospitante mi viene in mente un ragazzo di etnia bosniaca nato e cresciuto in italia mai uscito dal territorio nazionale che non aveva un regolare titolo di permesso aveva provato sotto consiglio di un avvocato a fare richiesta di protezione internazionale nel 2018 non è andata a buon fine ha ottenuto un diniego anche dovuto al fatto che proprio in quel periodo era stato eliminato il permesso per motivi umanitari e quando nell'estate del 2020 si è recato in questura per ritirare il proprio passaporto si è visto notificare un atto di espulsione e questa persona non solo come è facile immaginare ha una profonda radicazione nel luogo in cui è nato e cresciuto ma è addirittura era sposato all'epoca con una compagna ormai diventata cittadina italiana però con un rito religioso non riconosciuto dallo stato italiano allora gli interventi che abbiamo fatto si sono mossi su due livelli da una parte fare il ricorso per il rigetto e contemporaneamente ci siamo attivati per coinvolgere l'ambasciata bosniaca che non non aveva dato grossi cenni di collaborazione fino a quel momento per ottenere i documenti necessari e procedere così con il matrimonio vero e proprio che ha permesso poi di arrivare a ottenere un permesso di soggiorno e questo è solo uno degli esempi di tante persone che in realtà hanno già i requisiti per poter regolarizzare la propria posizione amministrativa sul nostro territorio ma semplicemente non sono a conoscenza di queste possibilità e soprattutto di come procedere quindi molti rimangono in questo limbo di centinaia di migliaia di persone senza titolo di soggiorno in Italia e hanno bisogno di qualcuno che gli spieghi come si può risolvere questa situazione grazie a tutti